Già in passivo dal secondo minuto, la Juve delega a Bonitetti la fatica del pareggio. Ma oggi Lusetti arriva tutto, è sceso in campo con una spalla lussata. Onore al merito, glielo riconosce anche il palo su questo tiro di sentimenti belli. Nella ripresa una Juve sempre più arroventata, un Lusetti sempre più eroico. Bonitetti pensa di scavalcarlo, ma col pallone è frenato. Zorzi è arrivato a rovesciare. E' proprio il caso di dire che i guai non vengono mai soli, Lusetti si è buscato un'altra volta. Ma l'autoambulanza non accorre, lui ha sette spiriti, appena risuscitato ve ne darà la prova. Questa! E come non bastasse quest'altra ancora. La Juventus fa della tattica a vuoto, da sinistra al centro, dal centro a destra, dalla destra ahimè all'impenetrabile Lusetti.